Benda! Benda no! Ma Benda no! Sono un eroe. Il cappio! Il cappio no. Eh no, il cappio te lo devi far mettere, se no come ti impiccano? Eh, ero distrato, scusi eh. Il condannato ha diritto di esprimere un'ultima volontà prima di morire. Hai un desiderio? Sì. Esprimi. Impicatemi, ma salvatemi la vita. Poche storie! Andate avanti! Sventi! Eh, ma che modi sono questi? Boia, mi diri giù? Quassù fa freddo. Ma non è possibile. Un'altra diavoleria, eh? Ognuno si salva come può. Ma io te lo stacco il collo! Articolo 5, paragrafo 16, comma F del codice della filibusta. Il condannato che sfugge alla pena in maniera miracolosa o comunque straordinaria ha diritto alla grazia. Giusto! Grazie! Capitano, e che lo fa? La concilia? E va bene, accidenti. Grazie! 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 Ah!